buongiorno torna la versione balza in the car non on the road perché se no vorrebbe dire che sto guidando e non si può fare oddio c'è chi lo fa però fate molta attenzione soprattutto a non far male agli altri poi fate male anche a voi stessi al di là del fatto che se vi beccano è una bella multina giustamente giustamente con ritiro patente quindi non fatelo detto questo allora rispondo subito a chi mi dice perché non ho citato fagioli ieri nel nel centrocampo io ho ipotizzato cobbminers in questo momento la juve a daguas lewis ufficiale che frentura in attesa di ufficialità in attesa di ufficialità e cobbminers come obiettivo secondo me di fine di fine mercato per tutte quelle ragioni che vi ho già spiegato fagioli non l'ho citato perché perché in questo momento se dovesse arrivare cobbminers se la giocherebbe in un 4 3 3 in un 4 2 3 1 secondo me avrebbe più opportunità di partire titolare e non dimentichiamo anche che la stagione è lunga è piena di impegni la juve giocherà molte più partite l'anno scorso l'anno scorso ho giocato le partite di campionato e quelle della della coppa italia dagli ottavi in giù quest'anno si aggiunge la super champions league insomma la champions league allargata e quindi si allungano tantissimo le partite si allunga tantissimo numero le partite in più c'è anche la la questione del mondiale per club vedremo poi se sarà confermato se invece prevarrà l'idea del sindacato calciatori o dei vari sindacati calciatori di quantomeno posticiparlo comunque di non disputarlo secondo me sarebbe questa la decisione più saggia tempo fa si era detto appunto che se un giocatore gioca in nazionale c'è in più campionato nella sua coppa nazionale se fa anche il mondiale per club arriva in finale gioca 85 partite in un anno 85 partite è una cosa fuori da ogni buon senso però tornando bomba al nostro discorso iniziale non l'ho citato a seconda dello schieramento fagioli ma comunque fagioli giocherà un gran numero di partite il prossimo anno in ogni caso perché il turno dell'anno prossimo è più che mai obbligato e c'è la necessità specie per una società come la juventus di avere non titolari e riserve ma tanti titolari tanti titolari da alternare fagioli non può essere riserva in questa squadra è un titolare ma al pari di un minus qualora dovesse arrivare al pari di altri centrocampisti qualora dovessero arrivare o comunque di quelli già arrivati come la giusta e come sarà che frendturan anzi forse nei confronti di che frendturan potrebbe anche partire avvantaggiato anche se non è lo stesso ruolo sia chiaro quindi però ha fatto all'interno di centrocampo fagioli questo comporta disponda naturalmente anche un'altra situazione di mercato che è la probabile uscita di locatelli non ne parliamo mai però ne parliamo adesso locatelli è sulla lista dei partenti e tra coloro per i quali tiago motta ha dato sostanzialmente il via libera anche se l'ho già spiegato non serve non serve il suo via libera se decide lo fa e basta però diciamo che tiago motta nei colloqui che ha avuto con la società ha praticamente detto che qualora locatelli dovesse partire se ne farà una ragione sostanzialmente ecco nel senso che non rientra diciamo forse tra le scelte primarie del neo allenatore bianconero mi dispiace lo dico mi dispiace perché il ragazzo è una bravissima persona perché si è sacrificato tanto il ruolo non suo evidentemente non ha fatto bene perché sennò credo che spalletti lo avrebbe anche convocato in nazionale e mi è dispiaciuto vedere durante il periodo della nazionale uno spot pubblicitario nel quale c'era proprio locatelli anzi forse un paio nei quali c'era proprio anche locatelli così come orsolini che poi non sono stati convocati e qui li dispiace perché comunque ti senti già nel giro e non rientri per un'annata diciamo negativa col tuo club giocando in una posizione non tua diciamo che lui si è in un certo senso anche sacrificato molto da juventino perché juventino sfegatato locatelli per una maglia a cui teneva in maniera particolare è sul mercato vedremo quale sarà naturalmente la sua destinazione ma è evidente che a questo punto rischierebbe di trovare meno spazio di altri così come dovrà essere piazzato da qualche parte in prestito miretti così come verrà venduto a titolo definitivo anche perché chiaramente farebbe molto comodo anche lui nicolossi cavini diciamo che il centrocampo della juve attuale o meglio della juve che verrà di per sé fa fare alla juve quel passo in avanti che il centrocampo dell'anno scorso evidentemente avrebbe stato in grado di compiere e questo mi riporta un po all'interrogativo che ci fa in questo periodo sia se effettivamente la juve fosse stata in grado di vincere lo scudetto o se insomma il fatto che adesso venga tutto cambiato è la testimonianza diretta o indiretta nel fatto che non si trattasse di un centrocampo diciamo di altissimo livello per l'assenza di bobbà per l'assenza di fagioli eccetera eccetera questione chiesa anche quella io credo che si protrarrà un po per le lunghe ma la voglia della juve quella di sistemare tutto possibilmente entro il mese di luglio perché una cessione di chiesa potrebbe sbloccare diversi soldi potrebbe sbloccare eventualmente la questione sancio l'abbiamo già parlato ieri e fare incamerare la società una parte di tesoretto altri soldi potrebbero arrivare dalla cessione di arthur perché noi ci dimentichiamo sempre di questo tipo di giocatori però credo che nel complesso giuntoli stia lavorando molto bene stia lavorando proprio per costruire una società una squadra competitiva e al tempo stesso sostenibile chiudo con la questione marchisio non vorrei dilungarmi tanto su questa situazione secondo me marchisio è stato frainteso e mi dispiace che ci sia stata questa reazione che non mi trova assolutamente d'accordo lo dico tranquillamente perché secondo me marchisio intendeva dire che Torino ha il nucleo della tifoseria del Torino ma non la maggioranza dei tifosi del Torino nel senso che la Juve è trasversale a tifosi in tutta Italia è la prima squadra d'Italia il Torino ha il grosso dei tifosi a Torino e poi è credo la quarta squadra trasversale o la quinta credo dopo Juve Milan Inter credo Napoli credo ci sia anche il Torino ma c'è questa differenza credo che intendesse dire questo ecco quindi non mi trovo assolutamente d'accordo al di là dell'uso di parole molto molto deprecabili ecco ma secondo me intendeva dire questo Claudio poi lo conosco è Juventino viscerale cioè credo che non ci sia a parte credo che sia sulla stessa italiana di Del Piero e pochi altri insomma credo che poi è nato a Torino cioè di Torino cresciuto nella Juve credo che uno Juventino che ha giocato nella Juve come lui non ci sia non ci sia assolutamente rispondo anche brevemente a chi mi ha chiesto visto che si parla di calcio giovanile a chi mi ha chiesto quanto si spende adesso nelle scuole calcio io parlo per il nord e parlo per esperienza personale per il momento posso citaro comunque due squadre in cui ha giocato mio figlio la quota annuale viaggia dai 400 ai 450 euro non so se da altre parti costa di più o meno ma credo che sia la media quanto meno al nord non so al centro al sud quanto sia il prezzo magari fatemelo sapere iscrivetevi al canale ci vediamo naturalmente questa sera ciao